Salve, sono Rodolfo Foti, candidato per la lista Renzi alle prossime elezioni del Consiglio Comunale di Firenze. Aiutiamo Matteo a realizzare i suoi 100 punti. Sono una grande possibilità per questa città di coniugare tradizione e innovazione. È un progetto rivoluzionario per Firenze. È la possibilità di uscire da questa situazione di impasse cui ha vissuto la città negli ultimi anni. Votate Sindaco Matteo Renzi, votate la lista civica Matteo Renzi e accanto al simbolo della lista civica scrivete Foti.